vai ragazzi partiamo subito con un altro gameplay con la scalata la divisione a divisione 1 è sempre più difficile ecco finalmente una vittoria ragazzi è arrivata speriamo di farne altre perché veramente veramente se no qui non si sale più ragazzi io sono ben lieto allora vi posso dire che da oggi sul canale arriverà un gameplay al giorno di PES poi se mi gira posso metterne anche due dipende dal tempo che troverò per registrare PES ragazzi comunque un gameplay al giorno arriva o vinco perdo pareggio anche se ci prendo le batoste perché non si può sempre vincere anche se giustamente tutti vorremmo sempre vincere ragazzi però è così allora io vi faccio vedere vi faccio vedere anche quando ricerco l'avversario perché è giusto che vi faccio vedere un po' tutto ragazzi ok io la penso in questo modo vi faccio vedere tutto vinco perdo non c'è problema non nascondo nulla vediamo un po' ragazzi qui come vediamo un po' che rosa questo ragazzo è Ibraimovic Tevez Robben Tevez Ibra Robben e insomma ragazzi Ibra anche io Ibraimovic però vi dico la verità non riesco molto a usarlo come giocatore ecco è un po' particolare da usare quindi non so forse qui è meglio che metto divisa bianca a me va molto meglio sì così si capisce di più possiamo iniziare vai e niente ragazzi se qualcuno di voi magari mi dice Brado prova a inserire un altro centrocampista così però poi magari si abbassa un po' il TS della squadra che adesso ho portato a 96 a 96 forse perché ho messo Lamma altrimenti con Daniel Vesci arriva a 95 non lo so però per adesso ho riconfermato da Lamma anche per questa partita ragazzi poi magari se si stanca nel secondo tempo posso anche cambiare tranquilli vediamo un po' come va adesso questa partita devo cercare di concentrarmi proverò a concentrarmi ragazzi come la partita precedente ma tanto la difesa fa buchi nell'acqua e quindi o mi concentro o no la difesa fa quello che vuole fa quello che vuole magari consigliatemi se voi sapete perché la difesa fa in questo modo è proprio il gioco che è così ragazzi non so veramente non so che dire non so cosa dire allora vi dico subito che Neymar è il mio pupillo perché è un giocatore che ho sempre stimato mi è sempre piaciuto e quindi vai Messi bella così bella così bella Messi bella Messi grande grande Messi vediamo un po' se riesco a limitare un po' i danni in questa partita ragazzi perché io della mia difesa ho veramente paura questo comunque fa capire che anche ad avere i super top player gli errori li fanno anche loro ragazzi li fanno anche loro e vabbè Ibra da lì non sbaglia ragazzi non sbaglia Ibra eh vabbè eh vabbè eh però dai non iniziamo a fare questi falli falli che poi non vengono fischiati vabbè non aggiunco altre è questo che mi fa magari imbestialire a me ragazzi i falli che non vengono fischiati poi magari ne faccio uno io per sbaglio perché voi vedete che io gioco in maniera molto pulita e sono un avversario molto corretto però potrei anche iniziarmi a stufare di giocare in maniera corretta ragazzi perché a questo punto aia l'am lì no no bella parata Neuer bella parata Neuer può metterla in mezzo è Ibra ragazzi se sapete usarlo è micidiale no sbaglio sempre a fare quel rinvio lì avevano molte opzioni in area di rigore questo è il modo di attaccare vai Ronaldo vabbè ti sei girato male ti sei girato male un talento puro è anche in ritardo diciamo è vero Ronaldo è vero eh vai vai così Ronny no vabbè ho sbagliato questo sarà gol mangiato col subito ragazzi eh conosco le regole del calcio eh Neymar perché la dai lì non ti ho detto di darla lì comunque attenzione attenzione questo qui ha messo anche Di Maria o anch'io Di Maria ragazzi però ma credo che il guardalini abbia visto bene vi dico la verità non mi ci trovo molto bene a giocare magari non gli ho fatto fare affinità con la squadra o vabbè l'azione si stava facendo pericolosa ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo eh ragazzi Ibra riprende i palloni come nulla bisogna stare attenti quasi quasi penso di incorporarlo nella mia squadra ma no passaggio scandaloso di Messi vabbè da troppo ho fatto un filtrante ragazzi da troppo lontano solo che ho visto campo libero eh io vedo campo libero ragazzi non ci vedo più faccio subito queste giocate un po' brade capito quindi ok vediamo un po' bello ragazzi bello 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 ragazzi questo gol mi è piaciuto eh si episodio chiave della gara siamo ancora all'inizio qui 32esimo vai altro poteva sbloccare il risultato è davvero l'arma vai Neymar eh vabbè va bene così ragazzi va bene così va veramente bene così ha dimostrato grande visione di gioco servendo il compagno in quel modo grande Tiago Sil eh però Swainsteiger eh eh perdere quella palla così al centro campo eh sono pericolose stavo cercando di girarmi per passare ma ok per passare il pallone non per passare io ragazzi è lato per Neymar lato per Neymar ragazzi tento di attaccare da lì forse passaggio un po' troppo lungo ma da buon gustaio comunque occhio al lancio lungo ok 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 ho sbagliato ho sbagliato io ho sbagliato io ho veramente sbagliato io ragazzi dai Ramos bravo bravo Ramos grande ai 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 volevo fare il filtrante poi mi è scappato L1 vabbè vai vai spazza spazza Alaba spazza spazza che siamo a rischio qui che c'è Ibra che recupera palloni come niente ottimo ottimo Vidal ragazzi Vidal eh però questi falli qui cerchiamo di punirli questi falli qui ero andato lì ragazzi ero andato ma che provarci qui devo crossare ora vai vai una rimessa una rimessa va bene così va bene così una bella rimessa per Brado eh vabbè ma questo qui con i falli allora eh poi ragazzi ditemi se Brado non gioca pulito ditemi se non gioco pulito ragazzi cioè io la penso che è meglio giocare pulito ragazzi però in certe circostanze magari bisogna sì essere un po' aggressivi però poi si resta senza giocatori perché qui i cartellini rossi sgrizzano come le farfalle ragazzi non è che grande vital vital ragazzi mi piace a questo gioco veramente formidabile come giocatore ai 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 se passava la palla per Messi lì di Maria cerca di lanciare il compagno pallone vai Swaysteiger grande metto un po' difensivo ragazzi vediamo un po' se no no eh vabbè dai questo qui che riprende tutto che gol a culo che gol a culo no vabbè dai non sopporto magari perdere queste partite cioè ma che gol devo vedere io che gol vabbè vabbè guardate ragazzi non lo commento non lo commento ragazzi perché e vai e vai così questi sono gol ciccio grande Neymar cioè ragazzi non si può non si può non si possono subire quei gol cioè ditemi voi se sono gol anche se solo con un gol di scarto cioè io se l'avversario fa un gol bello lo dico ma subire quei gol ragazzi io li chiamo quei gol li li chiamo sessantesimo sessantesimo non so se fare qualche sostituzione tra poco ragazzi vedremo di Maria ehi faglie faglie questo qui ragazzi mi sembra mi sembra scusate la sagra del rimpallo ecco cioè io do onora ai miei avversari se giocano bene però fallo nessun dubbio ah ok fallo c'era il fallo ragazzi secondo voi ditelo secondo me c'era e poi non era un fallo grave non era un fallo grave una cosa leggera così bella Ramos bella così e là vai Ronaldo ottimo ai 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 dovevo vabbè ho sbagliato io ragazzi ho sbagliato io ho sbagliato succede no tranquillo Iniesta tranquillo si possono sbagliare certe cose si possono sbagliare eh sì vai l'am ottimo ottimo recupero grande l'am ragazzi mi sta piacendo come gioca l'am eh fatemi sapere se a voi come giocatore piace l'am a me allora vediamo un po' se bisogna fare qualche cambio ragazzi eh sì dai mettiamo bail qui mettiamo liberi eh mi son dimenticato di rimettere un centrocampista quindi a meno cambio mettiamo giordialba vai mettiamo a riposo un po' qualche giocatore perché si sono meritati un po' di panchina a riposarsi ragazzi sono uh e vabbè qui meritava il gol ha fatto una bella finta ok ah ma ancora faceva le sostituzioni a me comunque ok 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 liberia in campo ragazzi lo vedo dalle sue scarpette i suoi i suoi moccassini gialli no scherzo non sono moccassini grande bail eh ragazzi dai qui dagli il rosso qui dagli il rosso più voglio il rosso se vabbè era già munito Sergio Ramos se non sbaglio decisioni inizie pibili il giocatore se ne va sotto la doccia il messaggio è stato chiaro di qui non si passa perlomeno non l'hanno fatto entrare in aria Schweinsteiger vai ridiamo palla a bail bel gesto tecnico eh però bail sei lento nel fare il passaggio sei lento nel fare il passaggio vero vabbè un ottimo giocatore anche bail ragazzi non dimentichiamo che ecco qui è bail non è che ho anche robben ragazzi però non mi trovo molto con lui vabbè lo sapete i giocatori li ho quasi tutti no li ho tutti diciamo vabbè quasi perché non ho il cunna non ho pallone intercettato intervento davvero provvidenziale forse dovevo mettere a riposo Lam avrei dovuto mettere ma vabbè bel pallone grande Neuer grande trattieni un po' la palla dai lo fanno tutti lo faccio anch'io ottimo così eh 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 Ronaldo lo fermano solo con i falli ragazzi ai 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 era buono il tiro ragazzi era buono eh volevo fare un fallo perché ecco perché volevo fare il fallo ragazzi eh vabbè hanno trovato il pareggio quando tutto sembrava perduto non ha sbagliato eh sì hai avuto culo ragazzo hai avuto culo te lo dico mi dispiace ma ha avuto culo pensatela come volete ma ha avuto un bel culo magari posso sembrare un po' volgare ragazzi ma non ci sto non ci sto un 3 a 3 vabbè avevo vinto la partita ok dai ma il secondo quello che ho fatto con Ronaldo si deve specchiare eh sì palla intercettata ottimo il suo senso della posizione vabbè una vittoria e un pareggio ragazzi dai ci può stare non sono soddisfatto meritavo di più eh però va bene così ragazzi vediamo un po' la grafica almeno a rimanere in divisione 6 vediamo un po' vabbè aveva sempre 608 punti questo anzi col pareggio ho preso un punto io quindi vediamo un po' 1437 gp ma questa sera devo fare un po' di gp ragazzi ah contra ah vabbè ora vedete ragazzi vi faccio vedere come vanno via i crediti qui eh come vanno via i gp vi faccio vedere sì guardate quanto costa Guardiola 3008 ragazzi neymar siamo sui 2000 quasi 8 devo rifare un po' di crediti devo rifare poi c'è iniesta sempre sui 2009 se non sbaglio ecco qui sono rimasto con pochi gp ragazzi ma va benissimo allora un altro gameplay della scalata in divisione 1 si conclude il vostro diablo dex vi saluta spero almeno di non retrocedere ciao a tutti ragazzacci ragazzacci ragazz 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 ragazz